Il Consiglio Comunale di Teramo ha approvato con 20 voti favorevoli, 2 contrari e 8 astenuti il Project Financing per l'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento in centro storico. Intanto il vero obiettivo è questo, questa delibera risponde a due finalità principali. La prima è quella di riportare la legalità, legittimità e regolarità nella gestione del servizio dei parcheggi degli stalli blu. La nostra città dopo tanti anni di disordine amministrativo dà una prospettiva nel pieno rispetto della legge, una prospettiva di 8 anni e poi soprattutto la tutela sociale, quindi la garanzia e la conservazione di un numero già di base molto importante di posti di lavoro per gli attuali dipendenti della Tercop, di base 23 a tempo pieno, full time. Ovviamente noi nella delibera di oggi come indirizzo abbiamo dato la finalità, prima dell'avvio della gara, di incrementare il numero per cercare di raggiungere l'obiettivo, che abbiamo condiviso anche con i sindacati che ringrazio, di tutelare tutti i dipendenti. Chiaramente sappiamo che c'è in corso, è stata avviata la procedura di una gara cosiddetta ponte, che è una gara corta, ridotta nel tempo, che non è il nostro obiettivo vero, è il nostro obiettivo principale, ma che era necessaria per poter ripristinare anche qui la legittimità e la regolarità. I due procedimenti, se questo andrà avanti come vogliamo, come crediamo e come speriamo, si sovrapporranno. A questo punto l'obiettivo è che la gara del project possa superare la gara ponte, perché è comunque un progetto di prospettiva a lungo termine che garantisce i lavoratori molto più rispetto a quello precedente e soprattutto dà una prospettiva di modernizzazione alla gestione dei parcheggi nel nostro territorio. Per i parcheggi da destinare ai residenti in centro storico è stata approvata la modifica che consente, a 50 euro l'anno, di parcheggiare negli stalli dalle 18 alle 9 del giorno successivo. La proposta finale è una proposta che consente un abbonamento ai residenti nel loro ambito zonale di 50 euro, che garantisce non la riserva del posto, ma la possibilità di occupare lo stallo blu dalle 18 alle 9. Quindi è un punto di equilibrio che credo sia ottimale, ha trovato già, diciamo così, gli ok, mi diceva la storia Filipponi, di molte attività commerciali e credo anche dei residenti, perché di fatto si dà un'opportunità che oggi non è prevista. Tra l'altro abbiamo anche previsto una clausola residuale che consente di interloquire con il proponente per arrivare anche all'introduzione di ulteriori fasci. Più in generale si tratta di una proposta flessibile, aperta, che ci consentirà finalmente con l'approvazione del PUT e del PUMS a rimodulare complessivamente, anche all'esito delle modifiche urbanistiche della nostra città, la gestione dei parcheggi nel nostro territorio.